Musica Bella ragazzi e ragazze sono Onima e bentornati a questo mio nuovo video questo è l'ultimo video di quest'anno quindi mi raccomando passate un po' con un po' d'anno ci risentiremo il 2 gennaio dopo questo video che ripartiremo con tanti bellissimi video che ho già caricato tra l'altro fino al 15 gennaio come ho detto nell'ultimo video perché le ho organizzate così le vacanze me le passo tranquillo senza dover stare dietro a pensare a youtube quest'oggi anzi per voi ieri comunque 29 dicembre ho fatto questo record italiano tra l'altro manco lo sapevo e manco volevo farlo cioè praticamente ero in gruppo con degli amici volevo fare una cam in un minuto tipo così giusto per portarvi qualcosa di bello sul canale qualcosa di diverso insomma e qualcosa di epico tra l'altro perché comunque una cam in un minuto è sempre rispettabile in ogni caso la partita è stata ovviamente su strexon su blitz che tra l'altro se tutti diranno la cam è su blitz tra l'altro tutti i record mondiali chiunque paese qualsiasi persona che fa youtube che prova una cam veloce o prova comunque un record di cam veloce bisogna per forza farla su blitz su strexon il record mondiale è di 19 secondi quello mondiale dovrebbe essere stato fatto da un americano ma non ne sono sicuro quindi comunque sono sicuro che è 19 secondi e questa qua invece è stata fatta cioè vedrete a breve che è stata fatta in 28 secondi ovviamente ci metterò il timer sotto così da poter confermare che è stata fatta in 28 secondi ovviamente e ovviamente è stato stracciato senza offesa ci mancherebbe l'ormai vecchio record che è di sopra i 40 secondi mi pare 47 secondi di è stato fatto da sempre da un italiano da inferno power che tra l'altro seguo e conosco però questo diciamo è stato fatto in quasi la metà del tempo e cos'altro volevo dirvi sono diciamo molto contento ovviamente adesso non è che sto facendo la persona euforica perché l'ho fatto qualche ora fa adesso sto commentando stanotte cioè di notte sono molto contento volevo comunque farvelo vedere essendo ovviamente un record italiano e spero che qualcun altro comunque lo batta più avanti per avvicinarsi sempre di più al record mondiale comunque questo record cioè il record 19 secondi è stato fatto nello stesso identico modo che ho fatto io questo video cioè se voi guardate questo video che è stato fatto in 28 secondi il record mondiale è stato fatto nell'esatto nell'esatto modo identico a questo video solo che è stato fatto in 19 secondi forse perché i nemici sponavano prima forse perché i nemici adesso in questa partita contro erano 4 o 5 e magari in quella partita erano 6 tanti fattori che hanno fatto sì che lui l'ha fatto in 19 l'ho fatto in 28 sono comunque contentissimo quindi ve lo volevo far vedere e quindi spero che qualcuno riesca comunque a batterlo così da portare comunque l'italia in alto e battere gli americani obesi in ogni caso io vi invito a lasciare un mi piace per questa comunque questa impresa perché comunque secondo me è epica poi vabbè fate voi la cam risulterà facile visto che comunque nel senso sono davanti allo spawn nemico mi basta soltanto sparare e basta quindi non è che cioè sembra facile solo che dietro a tutta questa facilità di mettersi dietro un angolo e sparare c'è un'organizzazione e del lavoro un teamwork abbastanza notevole anzi molto notevole anche perché comunque devi essere organizzato parlare essere in gruppo da 6 sapere tutti gli spawn da coprire nemici mettersi in determinati punti per far sì che quello spawn dove sparavo sia l'unico disponibile per il nemico quindi insomma c'è veramente tanto lavoro dietro quindi non vorrei che poi alla gente arrivi e dice dislike perché cioè è una cazzata fare questo video cioè stai solo sparando a vuoto davanti dove nascevano i nemici ci riuscirebbe anche mia nonna no ragazzi cioè veramente se la pensate così vi ho appena spiegato che non è assolutamente così quindi piuttosto cioè che lasciare magari un dislike perché sembra una cagata no è veramente difficile fare una cosa del genere comunque l'arma in questione che stavo usando era una melee con caricatori aumentati e un altro perk che adesso non mi viene in mente comunque penso che l'avrete visto ad inizio video ovviamente ho specialista con inflessibile sciacallo e centro perfetto così da fare ancora più dolore molto dolore e poi ovviamente avevo tutti gli altri perk con estrazione rapida eccetera eccetera a 11 uccisioni anche se come vedete cioè in 28 secondi anche chi se ne frega potevi anche sparare con assalto per quanto mi riguardava comunque solitamente viene più semplice ovviamente la cam è di A24 non A25 quindi vabbè in ogni caso ne ho ammazzate una caterba anche dopo aver fatto la cam quindi non sarebbe cambiato nulla e come diciamo ultime cose che mi porta ormai avanti da tanto tempo come quando un bue traina il carro volevo sponsorizzare quattro cose queste quattro cose che non sono cose però non sapevo come descriverle sono due pagine facebook che mi hanno creato diciamo dei miei fan quindi io già ringrazio tutti i miei fan però comunque queste due persone tengono una pagina fan alternativa oltre alla mia che si chiama Noi Stimiamo Gods Anime e Noi Stimiamo Gods X Anime che comunque tengono aggiornati i miei video mi fanno dei fotomontaggi magari riuscissi a parlare dei miei video e quindi nel senso a me fa piacerissimo che ci passaste se vi piace lasciate il mi piace alla pagina se no è uguale nel senso a me fa piacere sponsorizzarli perché sono delle brave persone e lavorano gratuitamente per me perché gli fa piacere che piacciono probabilmente i miei video oppure spero che non siano gay comunque la seconda cosa che sarebbe la terza perché sono le due pagine fan è il mio grafico HGFX perché magari se dico GFX molti non capiscono il mio grafico che è una persona adorabile mi fa tutte le immagini mi fa i bg è dato tanto che volevo sponsorizzarlo per chiunque avesse 500 iscritti in su da 500 in su e volesse qualche immagine qualche cosa eccetera eccetera trova il link in descrizione si chiama Anon il nostro carissimo Anon e quindi ci passate dal suo canale youtube se avete bisogno di qualcosa e come ultima cosa vorrei sponsorizzare anche il JTF clan perché comunque sono loro più cioè due dei JTF clan più altri amici miei mi hanno aiutato in questa impresa cioè io non sapevo un cazzo dove dovesse essere lo spawn nemico dove mettersi dove sparare io non sapevo niente io ve l'ho detto volevo solo fare una cam di un minuto per portarvi qualcosa ed è uscito questo involontariamente ma ovviamente meglio siccome è sempre un record quindi vorrei che passassi anche dal loro canale perché loro fanno cioè se a voi piace questo video delle cam veloci le cam strane con tante armi e quel canale è quello che fa per voi nel senso fanno doppie cam, triple cam manca la cam da vendato come l'inside code e l'hanno fatto tutto anche loro quindi magari passate pure dal loro canale concludendo questo magnifico video che già vi sto portando avanti troppo volevo dirvi che comunque magari questo record sempre insieme a queste persone lo riproverò magari più avanti e ripeto spero che qualcuno comunque lo batta per avvicinarsi sempre di più ai 19 secondi e diventare noi italiani i campioni del mondo in cam veloci sarebbe una bella cosa no? anche se non fossi io mi piacerebbe passate un buon capodanno come ho detto prima all'inizio video e niente vi chiedo se questo video vi è piaciuto essendo un record italiano vi chiedo di condividere il video su facebook e niente da anima è tutto ricordate stay angry stay animals ciao 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 ciao